Il PSG avrebbe offerto Neymar al Real Madrid a riportarlo al quotidiano spagnolo Marca, secondo cui il club francese non sarebbe affatto disposto a trattare con il Barcellona per riportare il fuoriclasse brasiliano in Blaugrana. I francesi, dati pessimi rapporti con i dirigenti del Barça, non vorrebbero cederlo in Catalogna. Sempre secondo Marca, il Real Madrid però al momento non sarebbe interessato ad acquistare il brasiliano per i molti attaccanti già presenti in Rosa, ma tutto resta aperto. Neymar ha manifestato infatti l'intenzione di cambiare aria ed il PSG deve trovare una soluzione. Nicolò Zagnole è vicino a lasciare la Roma. La situazione, stando agli ultimi rumors di mercato, a sorpresa è precipitata negli ultimi giorni quando Petracchi ha comunicato al procuratore Claudio Vigorelli di essere disposto ad ascoltare le lusinghe del mercato nazionale e internazionale. Zagnolo in questo momento ha due offerte vere. Una ha coinvolto anche la Roma e viene dal Tottenham. 23 milioni di euro più il cartellino di Toby Alderweald. Contratto di sei anni al giocatore a cifre molto più alte di quelle che gli potrebbe garantire la società capitolina. L'altra proviene dalla Juventus ed è più bassa rispetto a quella del Tottenham. Nell'affare, secondo gli intendimenti dei due club, potrebbe entrare Higuain con conguaglio a favore della Roma e direzioni di pagamento da stabilire. C'è anche l'interesse del Liverpool che però vorrebbe aspettare un'altra stagione per valutare il reale livello del calciatore. Dovendo scegliere, Zagnolo preferirebbe la Juventus perché non si sente ancora pronto per un'esperienza all'estero. È disposto dunque a guadagnare meno pur di approdare in un porto più confortevole. Ma la trattativa ad oggi è legata a Gonzalo Higuain? È difficile. Quasi possibile che la Juventus investa 45 milioni cash, cifra ritenuta congrua dalla Roma. Se non si dovesse arrivare ad un accordo, Zagnolo potrebbe a quel punto riconsiderare l'ipotesi Tottenham oppure cominciare una vera e propria trattativa per il rinnovo con i giallorossi. Attualmente guadagna 350 mila euro più bonus, non un salario da calciatore di scala internazionale. Ma in questo passaggio di consegne dirigenziali non ha avuto segnali di apertura in questo senso. Ames Rodriguez è sempre più lontano dal Real Madrid. Il colombiano infatti non è nella lista dei convocati dal Real Madrid per la tournée in Canada e non partirà con i compagni di squadra. Altro indizio quindi sull'imminente cessione del giocatore, tornato dal prestito al Bayern Monaco e che non rientra nel progetto tecnico di Zinedine Zidane. La volontà della società madrilena di vendere Ames Rodriguez è chiara e il giocatore classe 91 sembra sempre più vicino al trasferimento al Napoli. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta definitiva dell'affare tra il club azzurro e la società di Liga. Niente calendario sfalsato tra girone d'andata e girone di ritorno per la Serie A nella prossima stagione, almeno per ora. Lo ha deciso l'assemblea dei 20 club che hanno scelto l'opzione della compilazione del calendario con il metodo tradizionale a specchi utilizzato finora. Allo stesso tempo sarà effettuato uno studio sull'impatto per la prossima stagione di un sorteggio con modalità differenti.